Anticipazione imposta al sole, martedì 11 febbraio 2020. Alberto, riflettendo attentamente sulla sua precaria situazione, decide di mettersi in contatto con una sua vecchia conoscenza. Costeio costui l'aiuterà oppure gli girerà la faccia? Clara, nel frattempo già sconvolta di per sé, riceve una notizia che potrebbe stravolgere la vita. Dopo l'ultima delusione in campo sentimentale, Giulia decide di rindanarsi nell'affetto dei suoi amici e familiari. Vittorio, ormai oppresso dalla mancanza di spazio e di libertà, trova un valido alleato in patrizio. I due, dopo essersi confrontati a lungo, capiscono che non possono più stare a casa con i loro rispettivi genitori e decidono di andare a vivere insieme, affittando un appartamento in comune. Grazie a tutti.